Al centro di una zona vocata da secoli alla produzione vitivinicola, nelle suggestive cantine della Rocca di Sala Baganza, è stata allestita la Cantina dei Musei del Cibo, un percorso espositivo e sensoriale inserito nel più ampio circuito dei Musei del Cibo della provincia di Parma, interamente dedicato al vino di Parma, alla sua storia e alla sua cultura. Presente già in epoca preistorica e assai sviluppata in epoca romana, la viticoltura ha lasciato importanti testimonianze culturali nel territorio parmense. L'allestimento museale lo testimonia attraverso sei differenti sezioni. La prima sala, allestita in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale, è dedicata all'archeologia del vino nel Parmense, con oggetti e immagini provenienti dagli scavi del territorio, che testimoniano come sia nato proprio in questa zona, introdotto dalle popolazioni celtiche, il modo moderno di bere vino, schietto e in bicchieri, abbandonando l'uso greco e latino di vini annaquati e speziati. La seconda sala, invece, approfondisce gli aspetti legati alle caratteristiche della pianta della vite e alla viticoltura, ripercorrendo le tracce di questa coltivazione nel Parmense, presentando anche attrezzi e oggetti d'uso nel secolo scorso, e un filmato sulla tecnica della vite maritata agli alberi in filari, tipica della zona. La terza sala racconta, attraverso attrezzi e oggetti antichi, la vendemmia e la preparazione del vino, mentre immagini e documenti narrano le storie del vino del territorio, dalle arti medievali alle tecniche francesi introdotte dai Borbone, all'amore di Garibaldi per la malvasia, alla passione per la viticoltura di Giuseppe Verdi. La discesa nell'affascinante ghiacciaia rinascimentale si trasforma poi in un'esperienza avvolgente. Immagini a 360 gradi, infatti, raccontano nel cuore del museo il ruolo della vite e del vino nel rito, nella storia e nell'arte, immersi in una cultura millenaria ricca di tradizioni. Dopo aver percorso un pergolato di vite, si approda alla sala delle botti. Qui si scopre la storia dei contenitori per il vino e dei mestieri ad essi correlati, ossia il vetraio e il bottaio. Ma vi è anche uno spazio per approfondire l'affascinante storia del tappo in sughero e del cavatappi, quella poco nota dell'etichetta e per conoscere le parole chiave legate al vino. La sesta sala presenta i frutti della viticoltura parmense, i pionieri del settore, le varietà coltivate, i vini prodotti, perfetti per essere abbinati al formaggio e ai salumi d'eccellenza del territorio, le cantine da visitare nella zona. Il ruolo del consorzio dei vini dei colli di Parma, a salvaguardia della qualità di un prodotto in continua crescita. Il percorso si conclude poi, doverosamente, con la degustazione nell'enoteca nei sotterranei della Rocca.